Sì, ci siamo dovuti aspettare abbastanza, però mi auguravo che prima o poi questo momento arrivasse, è arrivato domenica una partita delicata, c'è il rammarico per come è arrivato il pareggio, però siamo felici comunque della reazione che ha avuto la squadra e della prestazione che ha fatto, quindi va bene così. Ma diciamo che le ultime partite a livello fisico sono riuscito a trovare continuità e quello per me è importante, è star bene fisicamente perché poi le prestazioni passano da lì, poi ringrazio anche il mister per la fiducia e anche l'importanza che mi ha dato, quindi anche questo è un fattore che ha inciso.